Questo contratto con la firma definitiva rimette al centro dell'attenzione anche la formazione del personale, in particolare dei docenti e del personale alta. Per noi è molto importante ripartire dalle competenze perché questo ci aiuta a qualificare di più il personale. Evidentemente cinque giorni sono una condizione base, una condizione standard. Con il prossimo contratto lavoreremo ancora meglio per poter affermare il diritto alla formazione e il valore che la formazione ha nella valorizzazione delle professioni.